Vietato non toccare. Si può riassumere così il senso, anzi il sesto senso, della mostra milanese di Felice Tagliaferri, scultore nato a Carlantino in provincia di Foggia nel 1969 e cieco dall'età di 14 anni. E sesto senso è anche il titolo della mostra, un percorso espositivo di circa 30 sculture per le quali si chiede esplicitamente al pubblico di porre le proprie mani per carpirne la forza e l'energia espressiva. Figura centrale dell'esposizione Il Cristo Rivelato, una risposta a suo modo a quel Cristo velato di Giuseppe San Martino che a Napoli Tagliaferri aveva inutilmente cercato di toccare e al quale l'artista pugliese si è ispirato basandosi solo su racconti orali. Questa mostra è nata dall'incontro con Marina Sandri, appunto la mia manager, se vogliamo chiamarla così, perché io faccio lo scultore ormai da anni, sono a scuola a Bologna. Ho incontrato lei, è venuta l'idea di fare la mostra. Vorrei che ci raccontassi il Cristo Rivelato, com'è stata questa sfida? La sfida è nata nel 2008 quando a Napoli non mi hanno fatto toccare quello velato, appunto alla Cappella San Severo. Mi sono arrabbiato a tal punto che sono uscito fuori dalla chiesa dicendo con la proprietaria io ti fotterò e ho cercato sul racconto del Museo Mero e della mia compagna di ricreare la stessa scultura. L'ho chiamata Rivelata perché doveva essere toccata da tutti i cecchi del mondo e non solo perché anche chi vede deve toccare l'arte. Ho fatto questa scultura e adesso i napoletani mi dicono che tengono pure loro un bel Cristo.